Dobbiamo capire quale direzione vogliamo intraprendere perché alcuni dicono sfruttiamo al massimo il gas come vettore ponte per arrivare poi alla mobilità elettrica. Quello che è l'indicazione che il Parlamento 5 Stelle vuole dare è puntare immediatamente e più velocemente possibile alla mobilità elettrica. Ci sono già camion pesanti, quindi i camion 100% elettrici, sia che nascono già così, quindi che nascono già con la motorizzazione elettrica, sia che vengono diciamo tecnicamente retrofittati, cioè camion normali a cui viene fatto il cambio del motore e diventano 100% elettrici. Non c'è solo Tesla, ci sono anche altre grandi aziende, ne dico una, faccio il nome, la DAF, la DAF fa già uscire camion grandi 100% elettrici e altre aziende invece che appunto prendono camion normali e li trasformano in elettrici. Abbiamo i furgoni, i veicoli commerciali, anche in questo caso abbiamo una nota marca, in questo caso italiana, che ha il suo famoso daily in versione 100% elettrica. Abbiamo traghetti, abbiamo traghetti lunghi oltre 100 metri che fanno la spola da Nimarca-Svezia e sono appunto 100% elettrici, quindi navi molto grandi che riescono ad andare completamente elettriche. Allora il punto focale è proprio questo, dobbiamo partire dal traffico merci perché il traffico privato del pendolare che va al lavoro, della massaia che va a fare la spesa pone in circolazione un veicolo per qualche ora al giorno, mentre il traffico merci, come si può capire diciamo istintivamente, sta in strada o in mare decine, 10-12 ore al giorno e quindi fondamentalmente il tempo di ammortamento dell'acquisto di questi nuovi mezzi si riduce notevolmente perché ricordiamolo, il combustibile elettrico è molto più economico e la manutenzione è estremamente più economica. Quindi dobbiamo partire soprattutto con i veicoli commerciali che trasportano le merci e naturalmente con il trasporto pubblico locale, quindi anche in questo caso andare immediatamente ad autobus elettrici. Gli autobus elettrici esistono già in commercio, dobbiamo supportare l'industria italiana che passi agli autobus elettrici perché purtroppo in questo momento li producono in Cina e dobbiamo comprare quelli cinesi, cosa assolutamente che non va bene, ma trasporto merci, trasporto persone inteso come mezzi pubblici che quindi stanno in strada 10-12-15-18 ore al giorno dobbiamo passare all'elettrico. I vantaggi sono evidenti in termini di tutela ambientale perché ricordiamoci che gli ultimi studi sul metano dicono che la combustione del metano produce particelle molto piccole ma molto numerose, quindi potenzialmente decisamente non salubri e anche il tanto decantato Euro 6, Euro 6 lo dice l'Agenzia per l'Ambiente, lo dice l'ISPRA, quindi non lo dice il Parlamento, emettono 160 grammi di CO2 per chilometro, quindi sono altamente emissivi in termini di CO2, non va bene per l'ambiente, non va bene per il portafoglio, dobbiamo puntare immediatamente sull'elettrico.